Cari amici, diranno Maria buona giornata a tutti sulle 9 e un minuto di mercoledì 22 novembre 2023. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guida i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via dalla verità, del bene e sulla via dalla pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della Connega della Storia. Vorrei appunto come sempre fare una riflessione spirituale che comunque è antica ma è sempre nuova e si abbatta molto bene a quello che viviamo nel nostro tempo. Oggi vorrei appunto parlare delle due vie che gli uomini possono percorrere in questa vita e che Dio ha posto dinanzi alla loro libertà, cioè la via del bene e la via del male. Ovviamente Dio è esorta a seguire la via del bene perché la via del bene è quella che porta a Dio, mentre la via del male è quella che porta a lontano da Dio e porta quindi alla distruzione di se stessi. Ora, cari amici, quello che volevo mettere in luce oggi è questo, è la motivazione per la quale bisogna prendere la via del bene nella vita e bisogna evitare la via del male, cioè qual è la motivazione? Perché ci deve essere una ragione convincente anche perché la via del bene è comunque stretta e erta, la strada che porta al cielo è in salita, è stretta ed erta, cioè di montagna, insomma. E quindi uno diceva perché dovevi fare quella strada lì, insomma, sì per il premio eterno, ma sì per il premio eterno, ma chissà poi se c'è un premio eterno. Se adesso è qualcosa di più convincente, di più immediato, perché uno scelga la via del bene che è più difficile dell'altra, che è la via del male, è la via ampia, dove che è anche in discesa, che la moltitudine percorre mentre l'altra del bene la percorrono in pochi, ha detto Gesù, è una via che porta alla perdizione. Poi la Madonna non ha detto negli ultimi messaggi, parlo di quello di Gennaro di quest'anno, non ha detto che la moltitudine percorre la via del male, della perdizione, ha detto che l'umanità va verso la via della perdizione, va verso la perdizione sulla via della perdizione, quindi c'è proprio una globalità, un cammino di tutta l'umanità che non vuole Dio e va verso la perdizione. Allora, quello che volevo dirvi oggi è proprio questo, la motivazione per cui noi dobbiamo decidere di scegliere la via più stretta. La motivazione ve la do come si può dedurre prima di tutto dalla propria esperienza personale, perché che il cristianesimo sia una via di salvezza non basta che uno lo conosca intellettualmente, bisogna che uno ne faccia l'esperienza di vita, insomma, e quindi se uno fa l'esperienza di vita che il cristianesimo è una via di salvezza, allora evidentemente è motivato a viverlo e a realizzarlo nella sua vita. Perciò quello che personalmente ho sperimentato nella mia vita, che avete certamente sperimentato anche voi, è che seguendo la via del bene noi siamo contenti. E cioè, seguendo la via del bene, uno ci chiede ma cos'è il bene? Il bene è l'osservanza della legge di Dio, sono dieci comandamenti. Il bene è la bontà, è la purezza di vita, è la verità, è la carità, è la giustizia, è tutto quello che rende bene una persona e rende una persona contenta di se stessa. Allora, uno si rende conto che percorrendo la via del bene, anche sudando sangue, perché a volte la lotta è come quando si va in montagna, ci sono dei momenti in cui sono le pareti a picco a cui arrampicarsi e così ci sono dei momenti in cui sulla via della salvezza dobbiamo sudare sangue, come Gesù da Gezzemani. Però poi perché si va avanti? Si va avanti perché ogni volta che troviamo un ostacolo con la preghiera e con la grazia riusciamo a speronare la nostra volontà, come dice Caterina D'Asiena, speronare l'anima e riusciamo a superare la prova, noi siamo contenti. Cioè l'osservanza dei comandamenti è difficile, l'osservanza della legge divina è difficile. Vivere la legge dell'amore in tutte le sue espressioni è un lungo cammino che richiede una lotta quotidiana, ma che genera dentro di noi una contentezza continua, una pace che in alcuni momenti diventa anche una gioia, la gioia di vivere. Ma questa è un'esperienza che fanno in tantissimi. Cioè noi oggi siamo abituati attraverso i mass media a vedere le cose brutte e comunque a vedere personaggi da cui vita è effimera. Se il personaggio è lo spettacolo, di qua, di là, magari sono anche bravi persone, per carità, però insomma, voglio dire, come dire, insomma, con i loro travagli, le loro miserie, i loro fallimenti, eccetera, eccetera. Noi siamo abituati a vedere questo tipo di mondo che è la mondanità dei mass media. Perciò noi pensiamo che tutti siano così, grazie a Dio c'è una parte dell'umanità che non è così, c'è una parte della società che non è così, c'è una parte della società che ha accolto la fede, ha accolto la vita cristiana, la vive nell'umilcà, la vive con tenacia, con perseveranza e gente che è contenta. Che magari è anche poco dalla vita, magari non ha quanto basta per vivere, ma è felice e contenta perché percorre la via del bene. C'è una via della bontà, della carità, dell'umiltà, della pratica della virtù. Allora, cari amici, questa è la motivazione per cui noi dobbiamo percorrere la via del bene. Il discorso che si faceva una volta, a mio parere, non è convincente perché non è reale, perché non rispecchia l'esperienza esistenziale. Cioè, un'altra si diceva, soffriamo in questa vita che godremo nell'altra. No, signori, la sofferenza in questa vita con Cristo già genera la gioia, già genera la pace. Quanti persone potrebbero dirlo? Milioni di persone che accolgono Cristo nella fede, seguono Cristo portando la croce e che sono contenti, che sono felici, che sono in pace con se stessi, che sorridono alla vita. Allora io posso fare questa affermazione che è profondamente vera. È profondamente vera perché Dio, guardate, è di una sapienza incredibile. Cioè, il bene, la pratica del bene fa bene. La pratica del male fa male. La via del bene è la via attraverso la quale una persona realizza se stessa, costruisce se stessa, diventa bella, diventa buona, diventa un benefattore dell'umanità. La via del male, cari amici, è una via che distrugge. Il male è corrosivo, è una tarma che ti corrode e ti distrugge. Il male distrugge le persone. Il male, come dire, appassisce le persone e le fa morire, come dice la Madonna, le anime sono ammalate e vanno verso la morte spirituale. Il male rende schiavi le persone. Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Il male rende infelici le persone, ma questo loro lo capiscono. i giorni in cui vengono toccati dalla grazia e dalla conversione, vanno a confessarsi, magari dopo chissà quanti anni, hanno vomitato fuori tutto il male che avevano dentro, ricevono l'assoluzione dei peccati e poi sperimentano una cosa incredibile, cioè le lacrime di gioia. Le lacrime di gioia, che sono quelle di una confessione che ti ha riabilitato nella dignità di figlio di Dio. Quindi, cari amici, uno che sperimenta il tocco della grazia, o perché è stato perseverante sulla via della salvezza, o perché per grazia si è convertito, ha lasciato la via della rovina e ha preso la via della salvezza, sperimenta dentro di sé una gioia che non è autocompiacimento, soddisfazione di sé, ma che è gratitudine alla pace che Dio ti dona, alla paternità che Dio ti ridona, alla fratellanza con Cristo che ti unisce a lui, alla dolcissima maternità di Maria, tutto questo, cari amici, è un'esperienza di questa vita, non dell'altra. Ecco perché la Madonna ha detto, tutti voi potete costruire già qui su questa terra un pezzetto di paradiso. Allora posso dire, cari amici, la via del bene fa bene, la via del male fa male. Questa cosa il diavolo sa talmente bene che non ti presenta mai il male come male, perché se il diavolo ti presentasse il male come male, noi non lo seguiremmo, perché ci renderebbe infelici. Quindi il diavolo deve essere per forza menzioniero, deve per forza ingannare. Lui non ti può dare quello che lui è, che è una serpe velenosa. Lui ti dà quello che lui è, ma ben camuffato. Cioè lui non ti dà il veleno, ma ti offre una tazzina profumata di tè con dentro il cianuro. Ti presenta, come dice Caterina del Siena, il male sotto colore di bene e così ti avvelena, e così ti distrugge, così ti fa schiavo, così ti fa suo, così lui ti dona la sua perdizione eterna. Ecco quindi, cari amici, l'importanza del discernimento. Oggi il mondo dove a Satana regna, ma c'è anche la parte del mondo dove regna Maria, non dimentichiamolo. Ci sono tanti cuori dove regna Maria, insieme a suo figlio Gesù e la Santissima Trinità. Ma comunque sappiamo che c'è un mondo particolare, forse quello che ha in mano tutte le leve, ha in mano il denaro, il potere, le armi, tutto quello che volete voi, i piaceri, gli inganni, tutto, c'è questo tipo di mondo, è un mondo per forza ingannatore e ti presenta il male sotto colore di bene, ti presenta la trasgressione come fonte di felicità, ti presenta ciò che porta la schiavitù, cioè i piaceri materiali di ogni genere specie, come se fossero per te una fonte di gioia e invece, come dice il nostro sommo poeta Dante Alighieri, la bestia che è in noi mai sazia la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame di prima. Dopo ogni peccato, per grazia di Dio, la coscienza si comincia a rimordere. Dopo ogni peccato noi ci sentiamo schifati dal male che abbiamo fatto, abbiamo schifati noi stessi, disprezziamo noi stessi. Dopo il peccato, giustamente, ci sentiamo infelici. Soltanto i demoni ridono dopo che sono sprofondati nell'abiezione. Ma che senso ha per una creatura creata di immagine le somiglianze di Dio come l'uomo, pervertire se stesso, essere immagini di un demonio? È l'autodistruzione di se stessi. Il male fa male, il male è autodistruzione di se stessi, il male è autoschiavitù, il male è fonte di scontentezza, il male è fonte di rabbia, il male è fonte di odio, il male inquina il mondo. E tuttavia, cari amici, questa durezza di giudizio che dobbiamo dare sul male deve avere sempre una sguardo dei misericordi verso i peccatori, perché ingannati sono caduti nella trappola, sono caduti nella fossa, per i serpenti raccoperta da uno stato di foglie. Loro hanno camminato senza guardare per terra, superbi come sono, hanno messo i piedi e sono caduti nella fossa in mezzo ai serpenti. Allora, cari amici, lo sguardo della pietà è per la loro salvezza, la preghiera per la loro salvezza, la parola detta al momento giusto per esortarli a uscire fuori, ad avere speranza, mostrando loro, dal basso che sono, il cielo che li chiama e li attende. Cari amici, è questo che dobbiamo fare oggi, essere molto decisi nell'addicernimento, estremolti o decisi nel discernimento fra il bene e il male, molto decisi nella scelta sulla via del bene. Cari amici, anche se abbiamo anche noi le nostre croci, ma come dice Caterina da Siena, i peccatori non solo sono crocifissi, sono flagellati dai demoni, sono distrutti dai demoni. Chi percorre la via del Calvario, sì, certamente, c'è il sudo di sangue, c'è tutto quello che ha fatto a Gesù, ma c'è anche la sua pace del cuore. La pace del cuore è il bene più grande che su questa terra si possa avere. Allora, cari amici, questa è la nostra testimonianza a questo mondo che esalta il male ormai, non solo ha scelto la via del male, ma esalta il male come se fosse un bene e disprezza il bene come se fosse un male. È un'umanità che ha scelto per la morte, come ha detto la Madonna, ma lei è qui per la nostra liberazione. Noi dobbiamo essere gli strumenti della liberazione per tutti, prima di tutto però liberando noi stessi ed essere forti sulla via che la Madonna ci indica, che è la via della santità. Questa dunque era la riflessione. Non dimenticate che siamo un tempo in cui è stato l'ingannatore, i miei italiani, dobbiamo essere forti nella fede, nel discernimento, nella preghiera, nella testimonianza. Facciamo la nostra parte che ci pensa la Madonna a fare la sua. Bene cari amici, adesso giriamo pagina. Sicuramente la notizia più importante oggi è l'annuncio di un accordo fra Israele e Hamas per la liberazione di una cinquantina o forse più di ostaggi, soprattutto bambini, in cambio di alcuni giorni di tregua. Il governo israeliano si è riunito e ha votato per il sì all'accordo, hanno votato contro soltanto i partiti religiosi, quelli di estrema destra, però Netanyahu non ha problemi di maggioranza perché l'opposizione di centrosinistra del generale Gans assicura la maggioranza di governo. Ora, quello che volevo dire è che questa è una notizia molto bella e molto importante e molto incoraggiante. È stata voluta fortemente, prima di tutto dagli americani, poi ci sta anche una grande cooperazione in questo senso, però possiamo ben dire anche il frutto della preghiera, la preghiera che il Papa ha indetto per la pace in Palestina, quella che il Cardinal Pizzabal ha chiesto, preghiera e digiuno, un giorno di preghiera e digiuno in Palestina. La preghiera porta sempre dei buoni risultati che sarebbero irraggiungibili. Allora, certamente la guerra poi continuerà dopo la tregua, ma a mio parere questi atti in contotendenza sono secchi d'acqua, questi atti sono secchi d'acqua sul fuoco che brucia e che divora e sono molto importanti. Possono innescare processi positivi. anche perché non dimentichiamo mai quello che la Madonna ha detto che il cuore umano può anche cambiare, insomma, perfino quelli di Amas possono anche cambiare. Alla fine è conveniente per tutti una coesistenza in Medio Oriente fra le varie componenti. Sarebbe anche conveniente una convivenza fra sciiti e sunniti, ma questa è molto lontana, ma che ci sia una convivenza, ci possa essere una convivenza fra israeliani e palestinesi, questo è, fra l'altro, quanto aveva stabilito l'Olu nel 1948 ed è un obiettivo per il quale bisogna lavorare. Cosa si oppone a questo obiettivo? L'odio del cuore. Ma con l'odio del cuore si va verso la perdizione. La perdizione in questo tempo, in questo mondo, si va verso la distruzione, si va verso la guerra. Quando invece sarebbe possibile una vita totalmente diversa? Di scambi, di scambi, diciamo, di beni materiali, di beni intellettuali, di beni spirituali. Perché non è possibile questo? Ma certo che è possibile questo. Quindi, e con grande gioia, io personalmente ho pregato molto perché ci fosse una tregua, perché so per esperienza culturale, diciamo, che quando ci sono questi elementi poi non rimangono isolati, innescano problemi. Qui il problema che potrebbe essere innescato, il problema che potrebbe essere innescato è che questa formazione terroristica di Hamas ripensi, ripensi i falimenti, il male che ha causato anche al suo popolo e percorre un'altra strada che è quella della soluzione politica di eventuali problemi. Cioè Israele non ha problemi di convivenza con gli altri popoli lì vicini, è segnato la pace con l'Egitto, è segnato la pace con la Giordania, coopera con l'Arabia Saudita, coopera con gli Emirati. Ovviamente bisogna mettere freno a certi appetiti di alcuni componenti della società ebraica che vorrebbe la terra dei tempi di Davide. Non è più possibile queste cose. Bisogna prendere atto della realtà e quindi, come ha ribadito anche il Presidente americano che è stato Biden e sempre molto criticato per tante cose dei cattolici, però questa volta ha fatto veramente bene. Cioè ha perseguito con decisione la strada di due popoli in due stati e ha fatto bene perché questa strada poteva portare a una grande pacificazione, almeno per quanto riguarda una vasta area del Medio Oriente. Fuori sono rimasti. Chi è rimasto fuori da queste trattative di pace? Sono rimasti fuori quelli che hanno innescato la guerra e poi sono rimasti con un pugno di Muscerini in mano. C'è la Russia, l'Iran, l'Iran, la Siria, sono rimasti fuori e quindi tutto il piano che avevano concepito di mandare in fiame al Medio Oriente è fallito. Però adesso bisogna trovare una via politica. Per questo preghiamo. C'è una pace ragionata nella sicurezza di tutti i popoli, in primis di quello di Israele, in primis. Perché sarebbe ora che di finirla una buona volta con la persecuzione degli ebrei. È una cosa insopportabile, è una cosa brutta maldemono da nessun altro. Chi ha interesse a odiare gli ebrei? Sono anche lui che odia Gesù Cristo, la Madonna e il cristianesimo, con lei che gli scaccerà la testa prossimamente nel tempo dei segreti. Allora, questa era una riflessione che volevo fare, però vi leggo alcune notizie, diciamo dei particolari, insomma, di questo accordo che dovrebbe realizzarsi la giornata di domani. Allora, prendiamo una sintesi del Corriere. Previsto il rilascio di 50 civili in quattro giorni vi tregua, ma il potale dei rilasci dei civili poteva arrivare a 80. Nella lista dei liberati 30 minori con 8 madri e altre 12 donne in cambio di 150 abitudini palestinesi. Sulla scelta si spacca la destra, cioè la destra religione di Israele persegue ideali realizzabili su di profilo politico e anche su di profilo della giustizia, perché comunque immaginare un Israele nei tempi di Davide mi sembra un po' fuori posto, fuori posto, insomma. Nel frattempo anche altri popoli hanno preso posizione nel frattempo. La storia è come se noi volessimo realizzare una nazione coi confini dell'impero romano, insomma, calmatevi figlioli. Allora, nella notte il governo di Benjamin Netanyahu ha approvato il primo accordo sugli ostaggi della guerra fra Israele e Hamas a Gaza, che provvede il rilascio in più fasi dei prigionieri, l'estensione del cetato in fuoco, insomma, si è innescato un movimento virtuoso. Allora, vediamo. Il primo ministro Netanyahu ieri ha convocato in sequenza il gabinetto di guerra ristretto, poi il consiglio di sicurezza e infine il governo. C'era da votare l'intesa con Hamas per il rilascio di 50 civili, in cambio di 4 giorni di combattimenti, di pausa dei combattimenti. Ora, questo dunque è quello che è il risultato di una lunga mediazione dove le parti esterne ad Hamas e Israele sono stati gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar. Dovrebbe incominciare domani, si spera, come già vi ho detto, di ottenere già in settimana la liberazione di 80 persone su 240 persone. di quelle ben tenute come i terroristi. Hamas ha ammesso che dovrà recuperare alcuni ostaggi in mano ad altri gruppi, come quelli della città islamica. A quanto pare, nell'accordo c'è anche il fatto che la Croce Rossa potrà visitare tutti i prigionieri catturati che sono all'interno. Allora, il commento di Netanyahu, l'accordo è stato difficile ma giusto. Noi ci fermeremo, non ci fermeremo però fino a quando ritorneranno tutti e fine all'eliminazione di Hamas, dichiarano Netanyahu. Quindi ovviamente il fine di eliminare Hamas rimane sempre nell'agenda di Israele. Però se Hamas è qualcosa di più di un gruppo terrorista, e cioè vuole essere l'interprete dei palestinesi, è chiaro che deve cambiare musica. Fare politica, e fare politica significa rinunciare all'abistruzione di Israele che è il programma di Hamas, di Hezbollah e dell'Iran. Quindi è chiaro che se Hamas vuole essere ancora interlocutore per il futuro deve cambiare politica, deve fare politica e basta, ma fare una politica costruttiva sulla scia della decisione dell'ONU. Cioè due stati, due popoli con due stati. Sì. Ecco, questa dunque è la situazione anche nel generale dovuto essere molto deciso e probabilmente dovrà fare a meno dei deputati della destra, ma per il momento non ne ha bisogno. I gruppi ottranzisti che hanno votato contro intendono presentare petizione alla Corte Suprema, ma sono quelle cose che lasciano il tempo che trovano. Allora, alla fine della sospensione, questo è interessante, già vi ho detto che per me già cambierà il clima in ogni caso, comunque alla fine della sospensione, che potrebbe allungarsi se già i disti offrissero altre liberazioni, lo Stato Maggiore darà l'ordine di riprendere l'offensiva. I morti palestinesi intanto hanno superato i 14 mila. I servizi segreti sono consapevoli che il capo di Hamas cerca di rendere la tregua semipermanente, con proposte goccia a goccia, per tutturare le famiglie che ancora aspettano e spingerla a premere sul governo. Non sosteneremo l'allargamento delle incursioni israeliane al sud, dice John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, cioè senza un piano per proteggere i civili in quelle aree dove sono ammassati 1 milione e 700 mila rifugiati. Dunque in poche parole c'è una netta differenza di vedute fra Israele e gli Stati Uniti per quanto riguarda il futuro. Cioè gli Stati Uniti vogliono spingere decisamente perché ci sia finalmente uno stato palestinese, che includerebbe la Cisjordania e Gaza, invece Israele non vuole l'occupazione di Gaza, vuole però controllare la sicurezza. Quindi insomma c'è ancora molta strada da fare, però nel frattempo si è fatto la cosa giusta, questo che dobbiamo dire e anche per sapere perché dobbiamo pregare. Insomma preghiamo perché si facciano altri passi avanti cari amici. E questa è una grande gioia sicuramente e una gratitudine particolare a Maria Bambina di cui ieri abbiamo celebrato la festa ed è proprio ieri che è stato dato l'annuncio. Maria Bambina che a tre anni è stata portata al Tempio, in questa festa mariana è stato raggiunto l'accordo e il governo israeliano ha firmato l'accordo. Vedere sempre la presenza meravigliosa della Madonna che ci dà le sue voci di luce e di pace. Adesso cari amici andiamo avanti. Dunque molti mi hanno detto perché padre di Valerio non l'ha voluto inserirsi come faceva una volta in questi fatti enormi, come è stato un fatti enorme, questo delitto inaudito che è stato commesso. E la pietà ovviamente è il primo sentimento che abbiamo soprattutto per la persona morta perché i signori l'accolgono nella sua pace. Ma anche noi siamo cristiani anche per l'autore delitto perché si possa ravvedere e si possa convertire. Preghiamo anche per tutti i membri della famiglia che sono in uno stato di sofferenza. Detto questo vorrei sottolineare che in vari dibattiti che parto seguito perché sto attento anch'io a come si muove il pubblico, come si muove la gente, come si muove l'opinione pubblica, però nei vari dibattiti che io ho seguito ho tirato la conclusione che è una certa area non piccola del mondo lontano dal cristianesimo ha preso l'ennesima occasione per distruggere la famiglia, per demonizzare la famiglia come se il demonio già non facesse di suo tutto quello che può fare per distruggere questa che è una istituzione divina. E i miei complimenti a uno scrittore del nostro tempo che ieri è entrato durante la trasmissione e ha fatto vedere la Bibbia, ha detto che stiamo qui tanto a discutere, ma qui c'è scritto quello che ha detto un patriarca nei tempi passati, quinto non uccidere, insomma. Questo è l'ABC. Allora, cari amici, quello che volevo dirvi è questo, che c'è una vasta area di opinione pubblica che persegue la distruzione della famiglia, cioè non più una famiglia formata dall'uomo e dalla donna, che cooperano insieme la trasmissione della vita e quindi i figli, l'educazione dei figli e la perpetuazione del genere umano, ma persegue un progetto anticristiano e antidivino, cioè in sostituzione alla creazione. Voi sapete che la Bibbia esordisce dicendo che la famiglia è un'istituzione divina, cioè l'ha creata Dio, Dio ha creato l'uomo, maschio e femmina, e Gesù stesso ha detto a quelli che hanno concesso il divorzio, praticamente, anzi il ripudio, come ha dovuto farlo Mosè a causa della durezza dei loro cuori, però Gesù ha detto che in principio non era così, cioè Dio ha creato la famiglia perché l'uomo lasci il padre e la madre e si unisca a sua moglie e i due siano una carne sola. Quindi la famiglia è un'istituzione divina, cari amici, che Cristo è elevato a sacramento, per cui tutti i battezzati, sposandosi, ricevono il sacramento del matrimonio, che ricevono in chiesa o non certo in comune. Allora, questo è il progetto cristiano, nessuno è obbligato a seguire la via cristiana della famiglia, per noi cristiani sì, Noi cristiani sappiamo che la famiglia è quella che è stabilita da Dio nella Sacra Scrittura, che Cristo ha elevato a sacramento e che il rapporto fra sposo e sposa è come un sacramento, cioè una figura dell'amore di Cristo per la Chiesa. Quindi, cari amici, la famiglia è un progetto divino, un progetto divino meraviglioso, per il quale si deve, si può impegnare la propria vita, perché l'uomo e la donna sono fatti l'uno per l'altro, si sostengono a vicenda, si aiutano a vicenda. Ci sono milioni e milioni di famiglie che sono esemplari in questo, con tutte le difficoltà della condizione umana, ma che però le superano e vanno avanti fino alla fine del cammino. E quindi questa realtà che c'è e che è un bene per se stessi, un bene per l'umanità, deve essere trasmessa ai nostri ragazzi, ai nostri giovani. E vi dico, ragazzi, giovani, guardate, che la creazione dell'uomo e della donna, l'amore reciproco, che vi completa, vi fa maturare. Come diceva San Giovanni Paolo II, è praticare la reciproca sottomissione nell'umiltà, sottomettersi l'uno all'altro, non prevalere l'uno sull'altro, e fare della famiglia un'osia di pace e di gioia. Questo è possibile. Ci sono tante famiglie che lo sono. È comunque un progetto di vita da perseguire, perché alla fine tutti ti abbandoneranno, ma i tuoi cari non ti abbandoneranno. Ricordati questo. Allora, dobbiamo essere consapevoli di questo obiettivo di Satana, di discusere la famiglia, ed è quello che è stato il tema fondamentale degli ultimi anni di sua Lucia di Fatima, la quale ha scritto una bellissima lettera nella Caffarra nel 2017. Caffarra è sempre stato un uomo, un teologo. Noi quando erano ancora sacerdoti abbiamo pubblicato, abbiamo trasmesso qui a Redomaria 11 sue sue lezioni sulla famiglia indiretta, sul matrimonio della famiglia indiretta, l'abbiamo ripetuta per tanti anni, e mi è venuto in mente, cari amici, lei diceva un'intervista di qualche anno fa che ha rilasciato il caderno al Caffarra su una lettera che lui aveva scritto a sua Lucia pregandola di pregare per lui, che aveva avuto l'incarico di San Giovanni Paolo II, di guidare l'istituto per studi e matrimoni sulla famiglia. il caderno al Caffarra non si aspettava una risposta ma arrivò la risposta a sua Lucia che fu molto illuminante per lui e sua Lucia ha detto chiaramente perché appunto gliel'ha detto alla Madonna che l'obiettivo di Satana è quello di distruggere la famiglia. Vediamo allora questa intervista di canerno al Caffarra che è molto significativa e ci fa capire anche questa ondata suscitata dal demonio omicida e menzognero è il suo mestiere omicida e menzognero prima ammazza e poi ti fa lo show il suo show per dire che la famiglia va abolita. Allora vediamo le domande domanda Eminenza cosa può dirci della lettera che ha ricevuto la sua Lucia mentre gli stava lavorando per fondare il pontificio istituto di Giovanni Paolo II per studi su matrimoni e famiglia a Roma risponde nel 981 Papa Giovanni Paolo II fondò l'istituto per studi su matrimoni e famiglia i primi anni sono stati molto difficili l'istituto non era ben voluto domanda chi non lo voleva? era mal visto sia dentro che fuori dalla chiesa a causa della visione che proponeva ne ero molto preoccupato senza averlo chiesto a nessuno pensai scriverò solo a Lucia voi sapete che San Giovanni Paolo II possiamo ben dire che è stato il pontificio per la famiglia fra l'altro insomma come l'è venuto in mente? mi è venuto in mente e basta ma come sapete fin dall'inizio la patrona dell'istituto è stata Nostra Signora di Fatima è contenuto nella Costituzione Apostolica in cui il Papa Giovanni Paolo II ha fidato l'istituto al patrocinio della Beata Vergine Maria di Fatima al punto che e spero sia ancora così entrando nell'istituto alla fine del corridoio c'è una statua di Nostra Signora di Fatima e la cappella dell'istituto è dedicata a Nostra Signora di Fatima e così ho pensato di scrivere a sua Lucia le ho scritto dicendoli semplicemente il Papa ha voluto questo istituto stiamo attraversando un momento molto difficile ti chiedo solo di pregare e ho aggiunto non mi aspetto una risposta le sue preghiere mi sarebbero bastate come sapete continua la caffarra per avere qualsiasi contatto con sua Lucia anche per lettera bisognava passare per il suo vescovo così ho inviato la lettera al vescovo che l'ha consegnata a sua Lucia con mia grande sorpresa dopo non più di due o tre settimane ho ricevuto una risposta era una lunga lettera di sua Lucia scritta a mano era il 1983 o il 1984 la lettera finiva così padre verrà un momento in cui la battaglia decisiva fra il regno di Cristo e Satana sarà sul matrimonio e sulla famiglia e coloro che lavoreranno per il bene della famiglia sperimenteranno la persecuzione e la tribolazione ma non bisognerà aver paura perché la Madonna gli ha già schiacciato la testa questo continuò a caffarra è rimasto inciso nel mio cuore e fra tutte le difficoltà che abbiamo incontrato e ce ne sono state così tante queste parole mi hanno sempre dato una grande forza domanda quando ha letto le parole di Son Lucia ha pensato che lei stesse parlando di questo momento storico risponde caffara qualche anno fa ho cominciato a pensare dopo quasi 30 anni le parole dopo 30 anni lui ha realizzato questo le parole profetiche di Son Lucia si stanno adempiendo questa battaglia decisiva sarà il tema del mio discorso oggi Satana sta costruendo un'antica reazione dunque Dio ha creato la famiglia che sappiamo io sto parlando dei cattolici altri la pensano diversamente ma noi come cattolici la pensiamo secondo la Sacra Scrittura ok e usiamo della libertà che finora ci è concessa di professare la nostra fede non siamo in polemica con nessuno state tranquilli godetevi le vostre conquiste qualche anno fa ha detto caffaro ho cominciato a pensare dopo quasi 30 anni le parole di Son Lucia si stanno adempiendo questa battaglia decisiva sarà il tema del mio discorso di oggi Satana sta costruendo un'anticreazione un'anticreazione leggendo il secondo capitolo della Genesi vediamo che l'edificio della creazione si fonda su due pilastri in primo luogo l'uomo non è qualcosa è qualcuno e per questo merito un rispetto assoluto il secondo pilastro il rapporto fra uomo e donna che è sacro fra l'uomo e la donna perché la creazione trova la sua completezza quando Dio crea la donna al punto che dopo aver creato la donna la Bibbia dice che Dio si è riposato cosa vediamo oggi continua caffaro due eventi terribili in primo luogo la legittimazione dell'aborto cioè l'aborto è diventato un diritto soggettivo della donna il diritto è soggettivo una categoria etica e quindi siamo nell'ambito del bene e del male si sta dicendo che l'aborto è un bene che è un diritto sappiamo che il diavolo presenta sempre il male colorato di bene è un diritto è uno storto non un diritto però lui lo presenta come un diritto la seconda cosa che vediamo è il tentativo di equiparare i rapporti omosessuali e il matrimonio al matrimonio Satana sta tentando di minacciare e distruggere i due pilastri in modo da poter forgiare un'altra creazione cioè come già vi ho accennato non c'è bisogno dell'uomo e della donna ognuno può vivere da solo in aggregati che vuole lui e eventuali nuove cariature vengono cariate come le serie delle jeep o di altre macchine popolari e poi magari ci penserà allo Stato educarle capito è un'antica reazione è legittimo pensare diversamente lo chiedo agli signori se è legittimo se è legittimo pensare come dice la sacra scrittura come dice Gesù Cristo o è prevista l'agonia o il taglio della testa vedremo prossimamente come andrà a finire la seconda cosa che si sta dicendo che l'aborto è un bene e che è un diritto la seconda cosa che vediamo è il tentativo di equiparare i rapporti omosessuali e il matrimonio Satana sta tentando al matrimonio Satana sta tentando di minacciare e distruggere i due pilastri in modo da poter forgiare un'altra creazione come se stesse provocando il Signore dicendo a lui farò un'altra creazione e l'uomo e la donna diranno qui ci piace molto di più eh vabbè io sono convinto invece che il male fa male domanda le scritture dicono che il diavolo è il padre della menzogna che si presenta come un angelo di luce e risponde Caffara nel mio discorso spiegherò le parole di Gesù su Satana quando dice il falso parla del suo perché è menzognero è il padre della menzogna e così secondo me non so se Giovanni parò il secondo lo avessi già previsto in questo tipo di situazione l'essere umano che deve essere difeso di più è la donna dice Caffara infatti nessun pontificato Giovanni parò secondo scrisse la murieris dignitate li vuole sviluppare una teologia della femminilità perché capì che questo fosse un punto delicato domanda la donna è quindi il campo di battaglia risponde Caffarra nella Bibbia c'è un dettaglio che mi ha sempre colpito dopo il peccato originale Dio ha frutto il serpente e dice io però inemicizia fra te e la donna quindi Dio ha posto un particolare inemicizia fra la donna e il male come se la donna avesse una sorta di istinto per il bene l'avevo mai sentita una idea di questo genere la approvo Dio ha posto questa inemicizia proprio tra la donna e il male e il testo continua fra la tua stirpe e la sua stirpe e qui i teologi vedono la predizione del figlio di Maria pertanto la donna ha un particolare coinvolgimento che ha conseguenze per la cultura la società e la famiglia domanda stiamo commemorando i centenari del 2017 dell'apparizione della Madonna ai bambini di Fatima qual è il messaggio oggi cioè in questa situazione ancora a mio parere validissima per il messaggio per me dice che a fare questa è un'affermazione molto intelligente l'originalità di Fatima è questa a Fatima la Madonna ha profetizzato è una profezia che ha coperto un secolo e mezzo in altre apparizioni la Madonna non l'ha profetizzato a Bersì è esortato ha messo in luce la particolarità di Fatima in un modo meraviglioso dice la Madonna Fatima ha profetizzato altrove la Madonna non l'ha profetizzato è esortato come a Lourde fate penitenza pregatevi di sacerdoti di costruire una cappella in questo luogo esorte e ricorda le forti esortazioni di Gesù alla penitezza e alla preghiera ma Fatima la Madonna profetizza alla fine il mio cuore immacolato triunferà e la Russia si convertirà questo vuol dire che si introduce negli eventi umani che la Madonna si introduce negli eventi umani nella storia umana e l'interpreta non l'aveva mai fatto prima domanda anche solo ci ha profetizzato risponde si pienamente indirizzata la profezia della Madonna e ci ha lasciato le sue memorie alcuni sono molto sconvolgenti senti che questo fosse il compito che la Madonna le aveva dato cioè diffondere e interpretare questa profezia Solucia in tanti suoi scritti ha interpretato e attualizzato la profezia della Madonna era una ragazza ignorante e è diventata una luce di sapienza ultima domanda anche le parole di Solucia sulla battaglia decisiva sono state una profezia battaglia decisiva quella della famiglia risponde si assolutamente ciò che Solucia mi ha scritto si sta depiendo oggi bene carissimi questa dunque era la profezia di Caffarra volevo anche fare qualcosa di più importante ma non ho il tempo volevo leggervi alcuni articoli sul matrimonio e la famiglia del Catechismo della Chiesa Cattolica meravigliosi dal 1602 al 1608 via sotto prendete google premete Catechismo della Chiesa Cattolica il matrimonio e cliccate vengono fuori questi bellissimi articoli dal 1608 dal 1602 al 1608 sul matrimonio del disegno di Dio il matrimonio dell'ordine della creazione il matrimonio sotto il regime del peccato e la grazia della salvezza e dell'elevazione del matrimonio della famiglia a sacramento a sacramento quindi fonte di grazia con questo chiudiamo il nostro editorialino che riguarda appunto il tentativo di Satano oggi di Dio della famiglia adesso andiamo al blog che è sempre più interessante come vedete quasi ogni giorno abbiamo cose interessanti molti vostri iscritti molto belli insomma allora però il fatto del blog di questi giorni è lo spostamento è la interpretazione la possibile interpretazione del perché Miriana ha le apparizioni annuali il 18 marzo si era pensato io stesso avevo elaborato magari l'avrò fatto anche altri io l'ho elaborato e ho anche diffuso una mia interpretazione nella quale ho mai crebuto fino in fondo come vi ho detto e cioè che il 18 marzo sarebbe stato i giorni in cui Miriana il 18 marzo dell'anno X sarebbe stato i giorni che Miriana avrebbe fatto vedere a sacerdote il volotolo con scritto il primo segreto il sacerdote avrebbe poi per sette giorni digiunato e anche Miriana avrebbe digiunato quindi il giorno 25 dal 18 al 25 sono sette giorni avrebbe letto il segreto che si sarebbe attuato tre giorni dopo quella però era una ipotesi che io ho elaborato ma non ero molto convinto invece sono molto più convinto dell'ipotesi nuova che ci ha proposto un nostro ascoltatore che non conosco e si chiama Pierfrancesco il quale ha detto attenzione Padre Livio che il prossimo 18 marzo 2024 verrà proclamato il nuovo presidente della Russia lui come altri che mi hanno scritto c'è da sperare che rimanga Putin perché se va su va su qualche ad un altro e si ha fatto ci sono anche i nomi di candidati che non esiterebbero usare armi ineffabili non si possono pronunciare che distruggerebbero il mondo può essere questo certo che può essere non c'è dubbio in questo caso il 18 marzo è un giorno in cui la Madonna ovviamente dirà la sua allora dirà la sua cioè può essere un reale inizio di un periodo tremendo allora vediamo questa lettera di questa lettera di Pierfrancesco che vi ho promesso di leggere allora carissimo Padre Livio anche in questa mia e-mail vorrei solo fornire uno spunto di riflessione perciò non è necessario che venga pubblicata come lei sicuramente avrà notato da grande esperto dell'apparizione di Međugorje c'è in questi inquieti giorni un'interiore coincidenza che bisognerebbe tenere ben presente e cioè le elezioni che si terranno in Russia l'anno prossimo avverranno proprio il giorno 18 del mese di marzo cioè 17 le elezioni 18 la proclamazione l'abbiamo letto anche nell'articolo di l'articolo che abbiamo pubblicato di Padre Stefano Caprio stesso giorno dell'apparizione di Miriana quindi se non ero proprio in un'intervista rilasciata a lei Miriana disse che l'apparizione sarebbe avvenuta in quel determinato giorno non perché era stata non perché era lavata per il suo compleanno ma che avremmo capito l'importante del 18 marzo successivamente io dice Pierfrancesco non sono il tipo di fare le previsioni o cose del genere tuttavia penso che la cosa abbia una certa importanza mi permetto sempre con umiltà e con il rispetto che lei ha dovuto se la cosa è fattibile di suggerirle un invito di suggerirle un invito dalle onde di Radio Maria ai radioascoltatori a fare una novena di digiune di preghiera prima di quell'evento cioè prima del 18 marzo del 2024 mi perdono se oso chiederle tanto vedremo certamente sarà man mano che ci avviciniamo quella data a mio parere l'interesse crescerà e anche la volontà di preghiera perché è chiaro che ormai dopo questa questa dopo questa precisazione che ha fatto Stefano e lo Stefano Caprio che il 18 marzo prossimo verrà preannunciato e verrà proclamato il nuovo presidente è chiaro che adesso il 18 marzo è dato nel mirino il 18 marzo del prossimo anno quindi vedremo anche una persona poco formata come me nelle politiche internazionali capisce bene che da quelle elezioni poteva venire fuori uno sconvolgimento importante per l'umanità cioè se va su diciamo il partito comunista ha il 18% dei voti se va su la vecchia guardia quella che vuole usare gli animati che ha per annettarsi il mondo succede il finimondo non c'è dubbio la Madonna è qui proprio per quello per impedire il finimondo per impedire la fine del mondo non dimenticate che Putin ha cominciato la guerra in Ukraine minacciando le bombe atomiche quindi c'è una parte dell'opinione pubblica militare che le vorrebbe usare lui si è destreggiato e cioè in parte le ha collocate in Bielorussia ma lui stesso ha detto così ho letto sui giornali a suo tempo a chi fa pressione perché usi le bombe atomiche ha detto ma anche gli altri ce le hanno cioè meno male che c'è uno che ragiona in questo senso quindi dice Pierfrancesco anche una persona poco formata come me nelle politiche internazionali capisce bene che da quelle elezioni potrebbe venire fuori uno sconvolgimento importante ho infatti letto l'articolo riportato sul suo bro di Stefano Caprio a Zianus in quell'articolo veniva messa in risalto la figura di Putin come leader supremo della confederazione russa egli Putin veniva presentato come l'uomo del frigorifero stando ad indicare una certa insofferenza verso questa figura adesso dice lui Pierfrancesco su Putin si potrebbe dire qualsiasi cosa senza neanche ricorrere alla fantasia infatti non ce n'è bisogno però di una cosa va preso atto Putin fino ad ora non ha mai usato armi non convenzionali mi riferisco dalla mia ignoranza ad armi nucleari chimiche e batteriologiche e non ha intrapreso finora azioni apertamente ostili verso gli altri paesi limitrofi ha sempre minacciato ma non l'ha mai fatto eppure avrebbe potuto adesso è qui il punto della questione carissimi con queste elezioni potrebbe venire fuori uno scenario completamente diverso potrebbero emergere personalità potrebbero emergere personalità alternative e lo stevano caprio indica Nicolai Patrushov Patrushov potrebbero emergere personalità alternative che non avrebbero nessun problema fra determinate scelte quindi caro padre anche se non ci fossero le apparizioni di Međugorje e tutte le altre numerive apparizioni a figure di rilevo nella chiesa basterebbe un poco di sale in zucca per capire che questi non sono tempi per prendersi un relas come si usa dire Radomaria è una voce di uno che dira nel deserto ma se il Signore ha voluto questa voce ci deve essere un motivo risulta che il buon Dio non abbia mai sbagliato un colpo e come precursore Radomaria fa l'apripista ad un altro il Signore Gesù caro padre Livio anche se mi ripeto non voglio smettere di dirle che le voglio un mondo di bene io però non mi ricordo altre sue lettere quindi a Radomaria devo tutto la supporto fino alla fine le invito colorosamente a proseguire la buona battaglia fin qui in trapresa spero di incontrare un giorno in paradiso insieme a tutti gli altri fratelli e sorelle Cristo regna a lui il governo della pastoria a lui il futuro Ave Maria Pierfrancesco quindi io sposto due righe per dire che che la sua tesi conferma quello che io ho sempre detto è il suo creatore principale fino ai termini dei segreti e al triunfo del quale il mercato di Maria sarà la Russia con Putin o senza Putin quindi la cosa veramente nuova qual è è che potremmo accostare l'apparizione annumale amiriana alle elezioni russe del prossimo anno non è una cosa campata bellaria magari non si manifesta magari sarà anche un Putin ancora ma un Putin congelato cioè bisogna vedere chi poi in mano le leve del potere a quanto pare è questo padrone della sicurezza russa che si chiama Nikolai Patrushev o altri ma comunque personaggi che alla fine potrebbero usare armi non convenzionali con quello che potrebbe succedere nel mondo non sappiamo ma queste sono cose che Putin ha minacciato ma non ha mai fatto altri potrebbero minacciarle e farle giriamo pagina c'è ancora un momento perché oggi è particolare dunque cari amici mi è arrivata una lettera questa mattina anzi ieri a cui ho dovuto rispondere e vi levo anche la risposta che riguarda il compito della Dua Maria nel tempo dei sereti di fatto allora mi scrive Rosanna Dasti mi scrive carissimo Padre Livio leggendo la lettera di Pia Francesco ho pensato a quello che lei ci ha detto più volte riguardo ai veggenti che avranno tutti una parte attiva nel tempo della rivelazione dei segreti infatti come lei stesso ha detto in radio e scritto nei suoi libri la Madonna ha spiegato ad ognuno dei veggenti nel corso di questi anni i vari particolari dei segreti questo a mio avviso significa che nel tempo dei segreti le loro parole cioè quelle dei veggenti tutte e sei saranno di grande importanza per tutti noi su come ci dobbiamo orientare quindi esso tacciono parleranno dopo credo e spero che la don Maria e lei personalmente siate in grado di svolgere il compito di informare e di esotare tante anime che rischiano di essere confuse dalla babele delle voci personalmente non credo che dovremo aspettare molto per la rivelazione del primo segreto forse come lei ipotizza questo avverrà a compimento del giubileo cioè dopo il 2025 mi raccomando caro padre vada avanti spedito Ave Maria Rosanna di Asti allora cari amici io gli ho riscritto due parole per annunciare a lei e a voi una mia iniziativa che ho ritenuto necessaria vediamo qual è cara Rosanna la tua lettera mi ha fatto venire in mente quanto siano importanti le parole che visca ha detto proprio in due interviste alla don Maria sul ruolo dei veggenti nel tempo dei segreti e anche alcuni particolari che ha reso pubblici soltanto lei che non si trovano in Miriana nei natri veggenti quindi ha detto cose che ha detto solo lei e che sapeva solo lei evidentemente però le ha dette per questo ho pensato di pubblicare sul blog tutte queste parole importanti di visca anche in rapporto alla missione di Radio Maria cioè visca c'è nato alla missione di Radio Maria sicuramente personalmente sono molto consapevole che Radio Maria è un dono di Maria per il trionfo del suo cuore immacorato e su questa strada desideriamo seguirla fino al compimento a Dio piacendo eh a Dio piacendo quello che Lui vuole io dico presente Ave Maria Padre Livio dunque cari amici io cosa ho fatto sono fatto rivedermi tutte le le cinque bellissime carliste con visca non ho fatto di più però per sostanza le più belle e ho scelto in due interviste una del 2000 e una del 2006 quindi sei mesi sei anni di intervallo tutte le parole di visca sui dieci segreti nei quali fa rivelazioni che aveva mai fatto nessuno che riguardano ovviamente il ruolo dei veggenti nel tempo dei segreti ma che dove Radio Maria dove visca a mio parere fa un accenno anche a Radio Maria voi leggete quelle parole o le scelte proprio precise perché visca è molto parca non ti dice mai ti dice quello che è necessario e non di più però quello che dice è oro colato allora voi leggete andate a vedere le parole che visca ha detto e che sono in un certo senso qualcosa di molto interessante perché a me i segreti non sono lontani è meglio che siamo preparati bene anche se poi è la realtà stessa che ci guida è la Madonna stessa che nella realtà attraverso la realtà ci guida con questo terminato è stata una bellissima mattinata siamo andati un po' lontani però abbiamo detto tutte cose importanti grazie per l'ascolto adesso c'è questo bellissimo libro credo che è molto apprezzato è molto letto e cioè Meggiugorje e questo libro Meggiugorje è la speranza del mondo la Madonna prepara i tempi nuovi entro Natale non perdete la lettura di questo libro che vi dà una visione globale di questi 42 anni restate cari amici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria grazie a tutti